polizia everywhere c'è della polizia davanti a casa mia stai attento è qua per me no è qua per però io sono in casa e non mi vedo come faccio ad entrare allora devi venire la vedi spagando muoviti ma a te sì e vattene ma sei ricercato ho tre stelle e non gli uccidere più ne uccidi più sei ricercato come faccio ad aprire la porta fammi entrare e mi devi citofonare mi sa che ci sarà un citofono in realtà non ti assomiglia non volevo farlo che mi assomigliasse alla fine c'è ho messo la barba e non ce l'ho per ieri hai messo la barba non vedi che c'è la barba aspetta che vado in prima persona non ha la barba no sì c'è tipo quella di rete guardalo meglio sei pronto a me no no invece tu sei uno spettacolo guarda cosa c'è dietro questa porta aspetta eh quando la veniro ecco eh la stanza per preparare i colpi aspetta che mi metti in prima persona cosa sono questi cosa quei cosi li appesi saranno dei vestiti chiusi dei vestiti chiusi ah la segnala gaming dove sono ho fatto delle prove ops caldi framerate io ti ho visto diventare trasparente eh che è piaciuto prima di tutto dobbiamo andare all'aeroporto per fregare un velivolo che missione è spiegamela fai il disegnino fai disarmato disarmato no allora prima di tutto andiamo all'aeroporto per fregare un velivolo con il quale poi ci avvicineremo in modo stealt alla base militare ma guarda che io non sono andato dall'ammunition eh non ho niente ah non hai armi? si vabbè un chilometro no si un chilometro vabbè dai due chilometro aspetta no 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 ma no perchè è sbagliato siamo vicini all'aeroporto no ma io vedo la mini mappa c'è la mini mappa che aspetta ma non dobbiamo seguire quella ecco adesso non è stata la testa la tua testa è compenetrata con un sedile che cosa aspetta che non so in che senso ahahahah vedo il sedile che si taglia oh beh il lab funziona perfetto sei pronto? che cosa devo fare? non devi fare niente tu tu ovviamente hai iniziato qua a studiare che diceva qualcosa per saltar dentro no ma queste sono cose che si sanno dai le cose che si sanno c'è il motore che è saltato via il copo oh riesco anch'io vai come si fa sei il copilato di un elicottero premi E per usare la telecamera ma stai pilotando tu o io? io? tu non lo so cosa devi fare provo a premere E vedo tipo la telecamera che spara penso o no qualche cosa vedo una camera ah anche io la vedo sei pronto per ricevere il tuo primo paracadute ma non ho il paracadute e adesso lo stiamo andando a prendere in elicottero eh si sì sì mi devo buttare dall'elicottero senza paracadute e con il paracadute andiamo alla base militare tu prenderai il jet e io prenderai un altro aereo andiamo a uccidere un altro giocatore se c'è è questo il piano il tuo grande piano e il paracadute cosa c'è? lo vedi questo palazzo sotto di me? no perchè ci sei tu aspetta mi attenti a questa persona questo mace bank ah ma si si dobbiamo atterrare lì è atterra sei tu quello che dici che sai di guidare l'elicottero nel modo giusto e adesso te lo faccio pilotare a te oh scendi scendi e se scende giù ah è rischiato no ecco lo vedi quello la? il paracadute lì? no non lo vedo qua ah si era giusto come faccio sapere che qua c'è una pagata luce? cioè tu sei venuto fino a qua per prendertelo eh si ma si guida con wazd? no allora con ops si guida si è bloccato il gioco veramente no il gioco continua ad andare però il personaggio se vieni a vedere che ti prego vieni a vedere qui come faccio a venire a vedere? oh sei incollato fuori dal finestrino oddio non si muove più ah no sei entrato? no dove sei? vedo sei rimasto sul palazzo no sono sceso ma tu dove sei? sono sull'elicottero dove sei tu? oddio ma hai despawnato l'elicottero qui sono qua sono qua mi vedi ilina da terra ma che cosa è successo? ma tu tu dovresti oh fermo oddio torna sulla e aspetta non saltare giù che ne hai uno di parecadute no c'è un altro qua ah vabbè tu l'hai già preso si non me lo fa prendere aspetta sali su sto salendo e guida te le vedi le luci la? si 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 cosa le vedi o no? le luci ma ti come fai a saperlo? lì perché c'ho giocato non questa casa quella la in lontananza la vedi che c'è una pista d'atterraggio questa? non questo questo è un osservatorio dove? ancora più avanti? alla tua sinistra c'è una pista d'atterraggio davanti a te oltre la montagna le vedi quelle luci la? ah ok ma adesso dimmi dovete atterrare poi decidiamo non devi atterrare appena bisogna lanciarsi con il e noi si può atterrare ci sparano? appena entri nell'area della si dell'area militare si hai quattro stelle di sospetto ah ok sei pronto? a far che cosa? al mio 3 ci lanciamo e come no come si apre aspetta ma io non vedo velivoli come si apre il paracalute? con la F ancora ah ok o con lo spazio vabbè con la F mi sa ah dai preparatissimi allora quando atterri si stai pronto perché no ma a parte devi fare tutto in fretta e e quando atterri con il paracalute oh abbiamo quattro stelle di sospetto lanciati lanciati veloce veloce va bene veloce F F ok F ancora aspetta aspetta un attimo oddio è lì nella cassa però quando cadi a terra non cadere troppo velocemente hai capito? come si fa una schiaccia F o no? F F vai vai ok bene come mi direziono? con V A S D ma non cadere a terra troppo velocemente e come faccio a ripolare la caduta a terra? con V A S D ok 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 tu vai eh prendi quell'altro jet quello la e dov'è? non lo vedo là in fondo vabbè tu prendi questo nell'hangar e dov'è l'hangar? io dove sei atterrato? mi giro se vuoi sono fuori dall'area mi... no sono ancora qui sei atterrato fuori dall'area di... no sono dentro cioè non sono ancora atterrato sono in volo ma ti ho detto di seguirmi non mi hai seguito? non lo so aspetta vengo da te non venire da me c'è un hangar davanti ci sono i carri armati non li vedo non è che mi spari si prendi un jet e vattene e dov'è il jet? no sei morto? si perchè? no perchè sei un imbrano non lo vedo il jet ce ne sono 20 di jet ok aspetta il problema adesso è atterrare oh aia che senso atterrare? stai ancora paracadutando? si veramente? sii te lo vedete che mi sto ancora paracadutando no ok sono quasi a terra ok allora aspetta che entro in macchina nell'area militare ok? vabbè tu vai di sfondamento e ti vengo a prendere ok? ma non prendo il jet io sto prendendo il jet ok prendi il jet se non muori ok ci sono ce l'hai? quasi ormai si c'è davanti a me ci sono salito sempre con 5 w lo guidi sempre con quelli aia aspetta mi stanno raggiungendo mi sparano veloce e ora che decolla al jet ce l'hai fatta ce l'hai fatta ok 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 ah merda è sposo sei morto aia 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 sei mediocre per dire uno ma sei difficile aia 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 aia